I furti sono una piaga che da sempre affligge la gente per bene. In certi casi, oltre ad arricchire i ladri, hanno riempito le tasche di imprenditori. I dispositivi antifurto infatti hanno registrato un boom non indifferente e il settore è esploso sotto la spinta propulsiva delle nuove tecnologie. Lasere, effetti sonori, dispositivi antintrusione, telecamere hanno raggiunto livelli impossibili da immaginare soltanto una decina di anni fa. I soliti ignoti sono un'industria produttiva che colpisce senza differenzazioni dall'appartamento alla villa, dal condominio di lusso alla casa popolare. Ogni mezzo è stato escogitato per debellare il fenomeno, ma anche in questo caso i risultati sono stati scarsi. Ricordate la moda sfrenata della porta blindata? Tutti volevano proteggersi e sembrava che la sicurezza arrivasse soltanto da quelle spesse lamiere nascoste tra il legno o l'anodizzato in difesa di chissà che cosa, difesa accaduta con dispositivi artigianali frutto dell'ingegno umano, con nulla a che fare con elettronica e altre specificità moderne. Così, ad abbattere la barriera delle porte blindate, è arrivata la chiave bulgara che abbatte ogni barriera e permette al ladro di evitare lo scasso alla faccia di cacciavite, piede di porco e altre diavolerie usate nei secoli per violare le altrui proprietà. Ma l'impossessarsi delle cose degli altri agguzza l'ingegno dei ladri. Difficile, nonostante le telecamere e altri congegni, fermare i ladri di oro rosso, ad esempio del prezioso rame che ha scatenato i soliti ladri, soprattutto negli ultimi tempi. Alla voglia di rubare non c'è mai fine. Purtroppo è nella mentalità umana, nell'essere umano, voler commettere reati ed i reati contro il patrimonio sembrano in continuo aumento. Rubano i politici, rubano i dipendenti pubblici e privati e non servono dispositivi anti-intrusione. In fondo, oggi rubano anche i fiori e la mimosa è nel mirino da qualche settimana, ma ancora più singolare è che a Genova imitano i francesi con il volo alla portiere. È assurdo degli assurdi che medici si impossessino di medicinali e pannolini in ospedale. Quest'ultima notizia che ci lascia perplessi giunge dalla Spezia, dove sono in corso indagini dopo che un cardiologo di 63 anni, stando agli accertamenti, ha messo insieme un bottino di poche decine di euro ed è stato denunciato. Lo hanno pizzicato mentre portava a casa pannolini e medicinali.